C'è stato un momento in cui gli anni e le sentenze per i fatti di Rotteram venivano contati. Oltre un anno e mezzo fa, solo nella capitale inglese delle violenze islamiche, c'erano state 18 condanni che hanno totalizzato 280 anni di carcere. Il tempo passa, i procedimenti penali in tribunale continuano ad oltranza e anni di galera si moltiplicano, ancora oggi, nel silenzio della stampa e dei media italiani e internazionali su una vicenda così eclatante, drammatica, brutale. Ma non è finita qui. Ci sono stati anche i momenti in cui i ragazzini e prese singolarmente venivano chiuse non solo appartamento per ore, senza cibo, acqua o elettricità, alla merce dell'ora Cuzzini. E' quanto hanno letto i giudici nell'ora di tribunale, condannando gli ultimi sei arrestati a 81 anni complessivi di reclusione. E ancora, sono state tutte sottoposte ad abusi terribili per mano di questi uomini. C'è scritto nella sentenza, al termine della lettura della stessa, come hanno titolato i giornali inglesi, il grido Allah Akbar è reccheggiato nell'aula. Alcun segno di pentimento sui loro volti, ma anzi la sfrontatezza di un grido che nasconde in sé il desiderio di rivendicare le violenze. Una doppia firma, sotto gli atti bestiali commessi. Per 16 anni i fatti sono stati taciuti da istituzioni negligenti e timorose di essere accusate di razzismo o islamofobia. Sì, lo abbiamo detto e lo continueremo a ripetere. Perché è stato grazie al coraggio e alla costanza di un giornalista, Andrew Norfolk, se poi i fatti sono venuti a galla. E sono venuti a galla nonostante le autorità avessero cercato di dissuadere il cronista dal fare il suo mestiere. E' stato proprio Norfolk a risalire la storia dei tre fratelli Hussein, uno dei primi nuclei di serviziatori individuati. Ma a quanto pare sarebbe stata proprio la polizia locale a provare a dissuadere non solo il cronista, ma anche una delle povere ragazze a cui era stata distrutta la vita, da raccontare cosa era successo alla stampa. Norfolk e i giornali che per primi si sono occupati del caso sono stati bollati di razzismo per sempre. Mohamed Safiq, capo di un'organizzazione giovanile musulmana, la Ramadan Foundation, ha confiato al Daily Mail che gli asiatici non tendono ad andare con ragazzi e la loro comunità, perché qualcuno potrebbe venire a bussare alla loro porta. Non vogliono padri o fratelli o leader della comunità che si scaglino contro di loro. Le ragazze bianche invece vengono considerate dai molestatori come più disponibili, ma soprattutto mai ci troverebbero gruppi come la British Muslim Health a coprigli le spalle. Quella che nel 2015, un anno dopo la pubblicazione del rapporto Jay, in un messaggio sull'internet ancora ordinava ai giovani musulmani di boicottare le indagini delle forze dell'ordine, facendo scoppiare anche qualche rivolta contro gli islamofobi. Perché quell'indagine, quell'indagine lì, le aveva fatti demonizzare agli occhi della comunità. Quale pressione violenta devono aver subito o quanti si sono rifiutati in passato di raccontare questa storia? Secondo un'inchiesta del Daily Express di qualche anno fa, violenze e abusi potrebbero aver avuto una dimensione ben più ampia. Mentre altre fonti della sicurezza inglese mandate a indagare sul caso Rotterdam, secondo la BBC, parlano di centinaia di colpevoli ancora a piede libero. Difatti hanno dato ragione all'inchiesta. E la trama di abusi sessuali è risultata affettissima e capace di attraversare quasi tutto il paese. Si parla, come vi abbiamo già detto, di 15 città differenti del Regno Unito. E secondo l'ex parlamentare laborista Sarah Champion, che si è occupata del caso Rotterdam, sarebbero centinaia di migliaia i casi di abusi. La Champion addirittura ha parlato di un milione di vittime in tutta la Gran Bretagna. Quello che l'esponente politico inglese ha descritto come un disastro nazionale. Sarah Champion era un ministro ombra del governo Corbyn, era il ministro delle pari opportunità. Nell'estate del 2017 ha pubblicato un editoriale su alcuni giornali inglesi, nel quale affermava che l'Inghilterra ha un problema serio, serissimo, con le gang islamiche. È bastata la pubblicazione di quell'editoriale per essere messa alla porta dal suo capo di partito, Mr. Corbyn. Perché il pensiero dominante vuole persuaderci dell'idea che i bianchi sono in quanto colpevoli di tutti i mali e macchiati di colpe ataviche, razzisti e infami. Il complesso mediatico-culturale collabora con il nuovo ordine politico-raziale per vedere annullate tutte le differenze. È perché la decadenza colonizza un'Europa incapace di far fronte a un'immigrazione ostile e distruttiva. C'è un'intenzione precisa di chi muove i figli del vecchio continente ed è quella di disgregare e smantellare le tradizionali forme di ordine sociale, le tradizionali verità, quell'onestà intellettuale che dovremmo cancellare per convincerci del fatto che la nostra società non solo è razzista, ma segnata troppo dalla diseguaglianza e da valori oppressivi per le minoranze. Ed è in virtù di questo tipo di pensiero dominante che i fatti di Rotterdam non sono accaduti, ma sono stati coperti. Il caso di queste ragazzine non è che la punta dell'iceberg di un traffico sessuale di matrice islamica che non ha colpito solo la Gran Bretagna, ma tutta l'Europa, lo vedremo. Vittime di elementi ostili alla nostra cultura, convinti del fatto che le loro azioni possono avere una giustificazione di natura religiosa. È inutile girarci intorno. Come va trattata una donna è scritto chiaramente nel Corano, perché non solo le vostre spose per voi sono come un campo, venite pure al vostro campo come volete, recita la Sura 223, ma nella comunità musulmana e nell'accusare un uomo di violenza sessuale, una donna finisce per incriminare se stessa. Senza testimoni, l'accusa della vittima diventa infatti ammissione di adulterio. Questo spiega il fatto che in Pakistan il 75% delle donne improgionate sta dietro le barre perché colpevole di aver subito uno stupro. Ma per i ragazzini della cittadina inglese il problema non si è neppure posto. È un'illusione pensare che col passare del tempo i principi religiosi dell'Islam si modereranno e in qualche modo scompariranno per il solo fatto di trovarsi in Europa. Il rischio di far sempre più attuale e il momento a cui stiamo assistendo oggi è un momento che ci racconta come la comunità in cui i migranti musulmani sono presenti sono spesso più numerose di quelle degli europei autoctoni. Le più recenti dichiarazioni dell'Isis hanno riguardato anche la sfera sessuale perché la violenza non solo è contemplata come qualcosa di normale ma è vista come anche un viatico alla conversione. Un po' come quello che è stato stigmatizzato nella minaccia destinata al popolo jazida recentemente che recitava più o meno nel momento in cui vi violenteremo diventerete musulmani per definizione. Ora è difficile capire cosa è stato più terribile tra le violenze sessuali perpetrate su minorenni o il silenzio o l'inazione di chi poteva fare qualcosa. Da di fatto che quelle centinaia e centinaia e migliaia di ragazzine violentate e il modo in cui è stata gestita la cosa sono lo specchio consapevole del vuoto che ci vogliono far accettare. Sono lo specchio, il sintomo probabilmente del politicamente corretto che è un problema di disciplina del linguaggio. È un insieme di relazioni sociali che inducono all'esclusione di certe opinioni perché ritenute poco importa se ha torto ragione irrispettose nei confronti di questa o quella categoria. Gli episodi di cronaca che vedono protagonisti gli immigrati, gli islamici sono qualcosa rispetto alla quale non bisogna generalizzare. Questa è la litania che è stata imbastita. Ma l'accusa di razzismo è esassista generalizzante perché osservare che l'immigrazione ha conseguenze negative specie se incontrollata non è un attività sulla razza o su una certa cultura. E allora ecco che il politicamente corretto sostituisce un discorso argomentativo con un discorso classificatore. Se dici così sei un razzista sei un classista sei un fascista è così che il linguaggio politicamente corretto serve non già ad affrontare i problemi ma a segnalare una posizione io non sono razzista e inciò il punto di vista del gruppo è rispetto all'individuo qualcosa di prioritario per essere socialmente accettati per dire io esisto ed esisto bene in questo mondo assume un rilevo speciale ciò che si dice e ciò che non si dice l'allarme è scorrettezza politica attenzione ormai lampeggia un po' ovunque e funziona come il meccanismo che rende la complicità comparativa superflua e ridicola per i grandi ma utile per i piccoli sei un microbo non sei nessuno sai poco di quello di cui stai parlando ma attacchi il gigante di turno beh allora non sarà proprio il quarto d'ora di celebrità promesso da Andy Warhol ma ci vai vicino sei lì hai garantita la coppa con la targa sfustigatore del potere paladino della nuova etica del nuovo mondo e allora ci rendiamo conto che le parole si rivelano come delle trappole e la cosa l'abbia capita bene Alan Bloom quando scrisse il suo celeberrimo ormai saggio la chiusura della mente americana nelle sue pagine Bloom accusava l'establishment accademico di aver snaturato gli studi con l'imperativo di promuovere l'uguaglianza e di eliminare il sessismo le guerre il razzismo e anche di sconoscere l'autorità il nome di una verità morale superiore che andava in posta che stava nascendo con la chiusura della mente americana Bloom mostrò come la cultura statunitense e lo stava facendo anche quella europea stava vivendo una crisi profonda dietro una fantomatica apparenza di liberazione e creatività e da allora ad oggi di acqua sotto i ponti ne abbiamo vista scorrere ed è successo quello che sta e assistiamo a quello che sta accadendo nelle più celebri università europee non ultime il caso non è mai onesto quelle inglesi a Cambridge un anno fa veniva annunciata l'intenzione dei professori di letteratura inglese di sostituire gli autori bianchi con gli scrittori neri e allora via gli occidentali dentro il multiculturalismo per far seguito alle proposte avanzate dal personale accademico in risposta alle richieste degli studenti di decolonizzare il curriculum vuoi informarti informarti e orientarti nel caos contemporaneo ascolta radionomalibera.org la prima emittente di podcast cattolici in Italia per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org